Mettio, Mettio, ciao! Comunque io posso dirti, con questo atteggiamento, Mettio, meno male che non sei nella mia squadra, guarda. Meno male che non sei nella mia squadra. Io Martina lastimo tantissimo come artista e tutto, non voglio che passi il messaggio assolutamente che volevamo noi fare protagonisti questa cosa veramente. Sì, sta passando un messaggio bruttissimo, questa volta veramente. Ma poi, se noi siamo arrivati alla conclusione di non fare, vuol dire che ci abbiamo lavorato, perché non è che io mi sono alzato e non l'ho fatto. Noi abbiamo scelto prima Venus, poi solo su di noi. Ma Mettio, Aile, mi dovete ascoltare un momento, perché la cosa più importante non è, non sono le, no, passate per dei lavativi. Essere una squadra è altro, essere una squadra è darsi una mano e se vi viene dato un compito di squadra, io mi aspetto di vedere tra di voi collaborazione e rispetto che non c'è stato. Ovviamente c'è un provvedimento che non riguarda Martina, c'è una gara di inediti in settimana e voi non canterete il vostro inedito. Cioè, è assurdo che solo noi ci prendiamo, io mi prendo veramente sempre provvedimenti, sempre. Ma se te li prendi ci sarà un motivo, Aile. Ma no, ma non è assurdo, veramente. Aile, non hai fatto il compito, è incontrovertibile questa cosa.